Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un progressivo aumento delle diagonali dello schermo degli smartphone. Questo fenomeno trae le sue origini dal mercato asiatico, dove i phablet rendono sovrani e gli schermi da 5.5 pollici iniziano a stare un po' stretti, per non parlare dei tablet che ormai rischiano, almeno in Asia, di essere completamente dimenticati. Per questo Huawei ha pensato il nuovo Mate 8 con uno schermo da ben 6 pollici e con una dotazione hardware eccellente, creando probabilmente il phablet più riuscito di questi ultimi mesi. Ringraziando GrossoShop.net per averci fornito il telefono in prova, andiamo a scoprire insieme il nuovo Huawei Mate 8. Design Mate 8 è senza dubbi un prodotto molto molto elegante. Realizzato in metallo e con un design piuttosto curato, il dispositivo vi catturerà sin dai primi minuti di utilizzo. Di sicuro si tratta di uno smartphone piuttosto grande, ma nel complesso risulterà comunque utilizzabile senza troppe difficoltà, a patto di utilizzare due mani o la funzione pensata per rimpicciolire la schermata attiva dello schermo, in modo da migliorare l'utilizzo ad una mano. In mano il telefono restituisce sin dai primi minuti una sensazione di robustezza e di qualità, paragonabile solo a poche altre proposte attualmente sul mercato. Sulla parte frontale del telefono non troviamo tasti fisici, ma solo la capsula auricolare, un LED per le notifiche e la fotocamera frontale. Sulla sinistra abbiamo il solo ingresso per la doppia SIM o per la SIM e per la scheda microSD per espandere la memoria. Sulla destra invece troviamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione. In basso abbiamo la grille dello speaker e il connettore microUSB. Nella parte superiore è situato invece il jack delle cuffie insieme al secondo microfono per la soppressione dei rumori ambientali. Sul retro troviamo infine la fotocamera principale, accompagnata da un flash a due toni e da un sensore per il rilevamento delle impronte digitali. Hardware. Il display di Huawei Mate 8 è da ben 6 pollici. Si tratta di un pannello IPS con risoluzione 1920x1080 pixel, che pur non essendo un quad HD risulta davvero eccellente e restituisce una qualità dell'immagine super definita e ben bilanciata nei colori, che comunque potremo gestire manualmente. Buona anche la luminosità e gli angoli di visione. Un po' lente invece è la luminosità automatica nell'adeguarsi alle condizioni di luce esterne. Il Mate 8 monta un processore iSilicon Kirin 950 octa-core da 2,3 GHz con GPU Mali-T880 MP4. Una vera vestiorina che con i 3 GB di RAM a supporto regala performance paragonabile a quelle degli ultimi top di gamma. Davvero ottimo il sensore per il rilevamento delle impronte digitali, che oltre ad essere molto rapido e preciso nel riconoscimento, è posizionato subito sotto la fotocamera posteriore. In questo modo sarà davvero comodissimo posizionare l'indice e attendere il riconoscimento dell'impronta. Riconoscimento che tra l'altro avverrà senza l'esigenza di accendere lo schermo del Mate 8 e senza dover premere alcun tasto. A livello di connettività troviamo il supporto all'LTE a 300 Mbps, Wi-Fi AC a due bande, Bluetooth 4.2 e NFC. Software. Huawei Mate 8 è uno dei primi smartphone a montare Android 6.0 Marshmallow di fabbrica. Le novità, anche se poche, riguardano un nuovo multitasking, non perfetto ma comunque migliorato rispetto al passato, e la gestione completa dei permessi, modelli e prezzi. Huawei Mate 8 è disponibile per l'acquisto su GrossoShop.net nelle configurazioni da 32, 64 e 128 GB con prezzi a partire da 520€. Lo smartphone è disponibile nelle varianti Grey Silver Gold e Mocha Gold. Inoltre utilizzando il codice sconto IP-ITA potrete ottenere uno sconto di 5€ per un minimo di spesa di 50€. Fotocamera. La fotocamera posteriore di Huawei Mate 8 è da 16 megapixel ed è dotata di uno stabilizzatore ottico dell'immagine, che non solo ci consente di scattare foto sempre stabilizzate e mai mosse, ma migliora anche la qualità degli scatti al buio. Ottima anche l'applicazione fotocamera, che include tutte le funzioni che ci si potrebbe aspettare, e risulta sempre fluida sia nell'apertura che nella velocità di scatto. Parlando della fotocamera anteriore, questa è da ben 8 megapixel e consente scatti davvero ottimi e video fino a 1080p. Batteria. La batteria di Huawei Mate 8 è da ben 4000 mAh ed offre un'autonomia decisamente ottima che potrà anche farvi concludere due giorni di pieno utilizzo. Ottima anche la ricarica rapida offerta con il caricatore presente in dotazione. Conclusioni. Huawei Mate 8 è un ottimo compagno di vita a tutto fare. Si tratta di uno smartphone potentissimo, con un software maturo, ricco di funzioni e con una fotocamera piuttosto buona. Ottimi anche i materiali e il design del dispositivo. Il tutto ad un prezzo relativamente economico rispetto alle altre proposte della stessa fascia. Insomma, se state cercando il miglior phablet Android di questi ultimi mesi, probabilmente lo avete appena trovato. È proprio Mate 8.